Allora adesso in questo momento il monaco sta dicendo al campo elettromagnetico circostante io ti uniformo. Poi in questo momento con il monaco 1 della tecnica in cui ci si mette in connessione con l'energia alta, lo schema che possiamo utilizzare di questo monaco è la centratura. Vediamo quindi le candele che sono vicine e vediamo l'effetto che c'è sulla levitazione. Vedete come si sbalza? Si sbalza a destra e a sinistra. C'è un movimento di sbalzo a destra e a sinistra. Quindi c'è una leva che porta prima a destra e poi a sinistra. Quindi il monaco dovrebbe essere comunque nella fase alta diciamo di questo momento di rivelazione e questo è il monaco che fa vedere la sua relazione e poi c'è il decadimento diciamo del tutto. Piano piano scende tutto quanto e porta alla consapevolezza. Questa operazione di discesa del tutto.